Va al rinvio dal limite dell'area di rigore ma sbaglia, allora Alfredson per Ferrari, subito per l'EPI che vede il movimento di Gomez che dopo il rimbalzo si produce in un grandissimo sinistro, palla nell'angolo sotto l'incrocio dei pali, diciannovesimo minuto, Verona in vantaggio, nonno gol stagionale per Gomez, l'ottavo in campionato. Ottima la sua conclusione anche in acrobazia.